Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo esperimento O come... Cazzo, ho un mezzo e mezzo, non faccio video, non so che capace Benvenuti in questo nuovo esperimento Come piace chiamarle a me? Trabocchino Quindi benvenuti in questo nuovo trabocchino Trabocchino di oggi Avremo bisogno di Un'anguria Io ho preso un'anguria Baby Metti like se anche a te piacciono le angurie Un coltello Anguria Un cucchiaio Anguria Anguria Della Coca Cola Ed è lì Metti like se anche a te piacciono le angurie Che è che sarei mangiate queste? Bene, siamo pronti? Metti like se anche a te piacciono le angurie Stop, stop Ah Metti like se anche a te piacciono le angurie Metti like se anche a te piacciono le angurie Perfetto Per questo trabocchino Ho bisogno di una mano Quella di mia sorella Cosa facciamo in questo trabocchino? Eh, si è dimenticato il settimana scusa Testeremo la Coca Cola e le mentos Tutti sappiamo che effetto ha la Coca Cola Con le mentos e la mentos con la Coca Cola Ovvero Esplode Alza la voce perché Esplode Quindi apriremo la nostra anguria Baby Metti like se anche a te piacciono le angurie La nostra baby anguria Praticamente L'apriremo La svuoteremo L'apriremo 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 Ovviamente nessun cibo andrà sprecato perché lo mangerò io personalmente Vuoteremo Una volta svuotata L'apriremo Una volta svuotata La svuoteremo Infileremo la Coca Cola Infileremo L'apriremo Ci verseremo dentro All'interno Verseremo all'interno Verseremo all'interno La Coca Cola E dopo subito di che Metteremo le mentos Una volta messe le mentos Copriremo L'apriremo E vedremo cosa accadrà alla nostra baby anguria Mi sono dimenticato una cosa L'apriremo Una ciotola Per mettere l'interno dell'anguria Ora non avevo una ciotola Ho preso una pentola Ok Iniziamo con l'apertura L'apriremo Della nostra anguria Tu come dici L'apriamo in quadrato O in rotondo Marti vai a prendere il tuo telefono Veloce 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 Occhio alla fotocamera Testa di camera Com'è storta Oh ma Ma ci vedi Ma storta in che senso Storta Eh da qua non si vede C'è il tavolo storto Ah c'è il tavolo storto Non la fotocamera Così è dritta Scusa se il tavolo Così è dritta Sì Se il tavolo si vede storto È perché storta la fotocamera No Magari è il tavolo che è storto Mi sa che ho fatto un errore Non sono molto pratico Di inventamento d'anguria Mi raccomando ragazzi Non fate la casa Io lo sto facendo su qualcosa E ti dai che se anche a te piacciono le anguri C'è l'apertura eh L'apriremo Non si ha È il testone Incollato Dentro L'ho tagliato L'apriremo Sì ma il centro è staccato ancora Ma la stai tagliando tutta attorno La rovini tutta L'abbiamo aperta Questo video io mangio Prepariamoci Fammi togliere la felpa Mi raccomando Link delle felpe Reflective E anche delle maglie In descrizione Stiamo per sventrarla Che schifo di rumore Ovviamente tutta questa anguria Verrà mangiata Da chi secondo voi? Oddio qua schizzo tutto Mi sono fatto dare il cambio Perché sono stanco Questi muscoli Non si allenano da soli Quindi un po' devono riposare Questo penso sia il trabocchino Più bello che io abbia mai provato Il mio intento è far esplodere l'anguria All'armandi vicini Siccome siamo qua da poco Vorrei farmi riconoscere E ti dai che se anche a te piacciono le angurie Direi che Martini è molto più brava di me A sventrare diciamo le angurie Lei probabilmente non me l'ha mai detto Ma questo è il suo sport preferito Certo Faccio tutti i giorni Nel frattempo vado a prendere un piatto Per dimostrarvi che questa anguria Non verrà buttata Verrà mangiata Verrà mangiata Eccolo Eccolo 3, 2, 1 Travaso No direi che non basta un piatto Va mangiata Allora 3, 2, 1 Ti dai che se anche a te piacciono le angurie Non è successo nulla Ma che trabocchino è questo? Proviamo a metterle ancora un po' Non è che era prima mentos e poi coca cola? Ma finisci la metti dentro Eh mi sa di sì No scusa Ma che trabocchino è questo? Scusa Non ci posso credere Ecco ho avuto effetto ritardato ragazzi Ti dai che se anche a te piacciono le angurie